Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi prepariamo insieme una ricetta perfetta per l'estate, prepariamo delle buonissime e semplicissime uova tonnate, vi consiglio di non perdervi questo video. Oggi prepariamo insieme un altro piatto perfetto per l'estate, ovvero le uova ripiene di salsa tonnata. Gli ingredienti che ci occorrono sono 4 uova sode, 100 g di tonno, un cucchiaino di capperi e maionese in base a quanto volete densa o più liquida la salsina. Per prima cosa prepariamo le nostre uova sode, quindi le mettiamo in acqua e dal bollore le lasciamo 10 minuti. Il passaggio più noioso sarà quello di sgusciare le uova una volta che si sono raffreddate, dopodiché non ci resta che tagliarle a metà. Ed ecco pronte le nostre uova. Ora andiamo a fare la nostra salsina tonnata con cui andremo a farcirle. Togliamo con un cucchiaino i tuorli dagli albumi e li mettiamo in un contenitore. Se le uova sono conto e giuste verranno fuori molto facilmente. Prepariamo la salsa unendo ai tuorli la maionese, il tonno e i capperi e in base alla densità che volete ottenere della cremina dovete aggiungere più o meno maionese. Semplicemente con un mini-peamer andate a frullare la salsa e riempite una sac à poche. Potete utilizzare anche semplicemente un cucchiaino. Andate quindi a farcire le uova e le uova sono pronte. Le abbelliamo con un cappero sulla punta e per dare un po' di colore con una fogliolina di prezzemolo. Le lasciamo riposare in frigo per una mezz'ora, dopodiché sono pronte da gustare. Io le ho servite su un piatto di rucola, semplicissime ma buonissime. Un piatto perfetto per l'estate. Se la ricetta vi è piaciuta lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento e come sempre se volete ricevere le notifiche dei prossimi video cliccate la campanella qui in basso a destra. E noi come sempre ci vediamo alla prossima!